La partenza dei grandi è alle 10.45 da Piazza del Popolo, da lì poi si sale sul percorso appunto che porta alla salita... La San Donato. Ecco, scusa. Se lo so, l'ho fatta impegnativissima per me, per voi no. Fino ad arrivare appunto al Monte Boletto. Le premiazioni avverranno alla Baita Bondella appena arrivano appunto le prime coppie. Saranno premiati le prime coppie, la prima coppia maschile, la prima coppia femminile e la prima coppia mista e questi sono appunto i trofei. Questa è la medaglia che riceveranno tutti i finish e questo è il gadget che sarà messo a disposizione nel pacco gara. Questa è l'unica borsa che si può portare per quanto riguarda appunto il deposito borse. Il gadget è appunto questo gilet con i loghi dei nostri sponsor e poi dietro il percorso che viene appunto indicato con la partenza, Metastrada, Ritacau, Rifugio Bondella e Monte Boletto.